Un'ultima cosa, perché ho scelto questa signorina qua? Ho fatto tanti prurini, lei legge al prurino, mi piace una cosa, una cosa che mi piace sempre negli attori, l'ostilità. Quando fece il prurino, lei era timide, imbarazzata, preoccupata, si è un po' di noi, però aveva qualcosa di ostile negli occhi. E l'ostilità negli occhi di un attore, in qualche modo, rivela la sua sincerità, per questo è lo scelto. Grazie. Questo è un intero di scelta che non ho mai sentito sempre, è un'intero di scelta che non ho mai sentito sempre, è un'intero di scelta che questa antipaglia, no? No, no, è diverso. Quindi poi mi dita quando farà dei prurini, sarà ostile nello sguardo. No, tu chiami me e dici, io ti mangio di come devi essere ostile. Ok. Non so che ti... No, no, è per gli stani, c'è preso. Vorrei dire, infatti. Matilda, ho un paio di domande. Una, che prurino avete fatto, visto che poi nel film, non se ci vuoi, taciturna. Cosa stai? Parla qua. No. Ok, anzi, lo ho sentito. E che prurino ho fatto? Io ho fatto un prurino... Surreale. Sono entrata in questa stanza e c'era Sergio e c'era una serie a rotelle. In realtà era proprio una serie a rotelle, quindi mi sono adagiata su questo strumento nuovo. La prima volta che ti siedi su una serie a rotelle hai una strana sensazione e già quello è verificante. E poi ho visto Sergio e lui mi ha detto, ok, adesso le battute te le dico io e tu riesci solo a quello che dico io. Va bene? Perché inizialmente c'erano delle posizioni, esatto, c'erano delle posizioni che comunque noi abbiamo usato come traccia. Io e Sergio, Albertin e Vincenzo hanno delle veri proprie conversazioni. Quindi era importante comunque, anche se poi le parole nel film non ci sono, era importante per me avere quei pensieri nella testa molto ben definiti. Quindi questo mi ha dato anche la sensazione di come quello che diciamo spesso passa prima attraverso gli occhi e poi attraverso le parole e non mi ce l'è essa. Questa è una cosa affascinante da scoprire realmente performando. Quindi lui inizia a leggere le battute e io dovevo semplicemente reagire a quello che mi diceva. Quindi in realtà il provino l'ha fatto Sergio. Io ho finito il ruolo, perché Sergio è un attore straordinario, perché io reagivo a lui, io non facevo niente. Io ero solo un tramite, io ero praticamente un conduttore della recitazione di Sergio Castellito. Quindi praticamente sono stata illuminata di luce di pina e ho vinto il provino. Grazie. 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 Grazie.